ciao tredesi adesso scappina bull come mai elon musk dice che tesla varrà più di apple e saudi aramco messi insieme cioè 4 mila miliardi come mai sta dicendo questa cosa qua è impazzito ci vede lui ci vede bene oppure è diventato un fuffa guru ne parliamo dopo la sigla cioè è un pazzo questo signore qua fra l'altro è l'uomo più ricco del mondo andiamolo a vedere qua uomo più ricco del mondo 219 miliardi patrimonio era un masco ovviamente in azione eccetera però insomma con un bel distacco su besos perché nel frattempo è crollato anche amazon comunque rimane il primo il più ricco al mondo ok e sta dicendo questa cosa che insomma sto dicendo questo sto dicendo che tesla varrà più di apple e saudi aramco messi insieme cioè adesso adesso tesla vale circa 500 miliardi ma lui dice che andrà a valere più di 4 mila miliardi quindi cerchiamo di capire come mai sta dicendo questa cosa qua e se è un matto e che purtroppo insomma io a me piace un sacco mi piace un sacco ascoltarlo mi piace un sacco il suo percorso ha cambiato comunque il mondo delle auto in questo momento qua ha fatto qualcosa di incredibile però cerchiamo di capire come mai arriva a fare queste cose ok è lo maschio ricordiamoci che è il più grande influencer al mondo ok ha 109 milioni di follower su twitter cioè quello che lui dice praticamente quando parla influenza e come ovviamente noi sappiamo anzi andiamo a vedere qualche grafico cioè sappiamo che appunto come quando lui è entrato aspetta andiamo qua andiamo a scuare il mondo cripto quando è entrato su bitcoin andiamo a vedere un bel daily di bitcoin anzi andiamo a vedere un bel mensile di bitcoin anzi settimanale quando lui è entrato ok ha fatto fare un mega pump a bitcoin cioè ha fatto il suo to the moon no che ha comprato quel miliardo e mezzo di dollari in bitcoin grazie a tesla che poi ha venduto praticamente tutto rimasto il 25 per cento che non ha ancora vinto ma poi vi spiegherò come mai vedrete che a gennaio febbraio quando usciranno i dati dirà che avrà venduto tutto ok però lui quando è entrato ha fatto fare una mega bolla gigantesca su bitcoin cioè uno che influenza è come andiamo a vedere anche dodge dove è il nostro caro dodge il nostro caro dodge che lui dice di detenere ancora lui dice di avere dodge niente non la trovo bene facciamo così dodge facciamo prima ecco ce l'abbiamo guardate qua cioè lui quando è entrato quando pubblicizzava dodge su twitter vi ricordate che roba che faceva il saturday night quando ha fatto il programma del saturday night ve lo ricordate spettacolare abbiamo fatto dei trade incredibili però lui guardate che bello questo bad to the moon nel weekly che ha visto il webinar ragazzi holdare consapevolmente guardate che spettacolo comunque e influenza e come ok poi ovviamente finito il dump ovviamente crolla peggio di prima ok siamo peggio di prima bel meno 92 per cento ok però è uno che appunto influenza tantissimo bisogna fare estremamente attenzione proprio perché appunto quando lui parla ha tante credibilità uno perché ha creato delle cose incredibili tesla spacex eccetera no ma poi appunto hanno tanti follower ok poi è diventato l'uomo più ricco del mondo e piace un sacco ascoltarlo perché comunque è veramente fuori dalle gli schemi poi io lo amo soprattutto per questo ragazzi questo è lui è l'uomo più ricco del mondo e sta un giorno al mare l'anno ok uno per essere così bianco vuol dire che sta un giorno all'anno al mare ma soprattutto è bianco perché lui veramente lavora cioè lui l'ho già spiegato in altri video dorme dentro l'azienda quindi è uno che ci si dà da fare che non è uno alla besos che delega lui proprio lavora lavora e come guardate che roba quindi già per questo merita però purtroppo sta esagerando sta facendo qualcosa di allucinante cioè le sue parole le sue parole fanno sì che appunto influenzano essendo il più grande influenza nel mondo finanziario al mondo ci sono tante persone che dicono lui è l'uomo più proprio fan questo ragionamento dicono lui è l'uomo più ricco al mondo se lui compra qualcosa non può scendere quindi quando dicevo di comprare dodge non può scendere avete visto è crollato peggio di quando lui ha detto di averlo comprato ok perché dopo lui esce ma voi dopo rimanete dentro lui esce poi non so non si sa quando è entrato quando è uscito su dodge ma comunque non lo sappiamo su bitcoin perché è legato a tesla altrimenti non avremmo mai saputo o comunque sarebbe più difficile capirlo e invece della gente poi dopo hold quante persone stanno ancora holdando dodge con la scusa che tanto se ce l'ha l'uomo più ricco al mondo andrà comunque lui non permetterà che il titolo scenda invece abbiamo visto che è sceso dal 90 più del 90 per cento dai massimi ok stessa cosa sta dicendo di tesla cioè per lo sta dicendo cioè lui adesso sta dicendo non quando era il time i adesso che tesla crolla sta dicendo che varrà quasi un 10x di quello che è adesso ok andiamolo a vedere andiamo a vedere tesla questa è tesla ok siamo al 50 per cento sotto ai massimi storici ok è già salito tanto al 50 per cento ora queste cose queste dichiarazioni così nel frattempo che dice che appunto escono fuori dati che invece sono negativi diciamo che sono positivi nel senso che sta continuando a crescere ma sta crescendo meno del previsto ok quindi quando qualcosa sale così tanto sale così tanto perché sconta che continuerà a salire a dismisura ok quindi finché sale a dismisura quindi cresce i dati crescono a dismisura il prezzo continuerà a salire a dismisura ok come ha fatto un bel 2400 per cento ma perché prevede diciamo il prezzo include quello che dovrebbe essere il futuro ma se in questa crescita che appunto dovrebbe portare Elon Musk da un milione e mezzo di auto che sta facendo adesso l'anno a 20 milioni se in questo percorso ci sono delle problematiche il prezzo ovviamente si sgonfia ok perché noi stiamo scontando cioè questi massimi qua sono che tutto andrà bene nella produzione per far sì che tesla possa valere 20 milioni e possa costruire 20 milioni di auto solo per questo spiega il perché valg possa valere più delle auto tutte le altre case automobilistiche messe insieme perché lui costruirà più auto di tutte queste messe insieme per quanto riguarda l'elettrica ok si pensava a questa cosa qua che ovviamente abbiamo visto che le altre case nel frattempo hanno iniziato a vendere anche loro a costruire le auto elettriche quindi non potrà mai vendere come tutte le altre case automobilistiche messe insieme quindi non potrà mai valere come tutte le altre case automobilistiche messe insieme se appunto nell'elettrico gli altri stanno avanzando e stanno avanzando molto velocemente soprattutto i cinesi è per questo che appena sbaglia qualcosa cioè quando nel prezzo include un futuro così perfetto basta un qualcosa cioè che rallenti lui dice sempre detto crescendo del 50% all'anno basta che cresca un po' meno di questo o soprattutto che le macchine su auto sono un po' meno desiderate e il prezzo crolla ragazzi è normale ok quando una cosa sale così tanto prevede un futuro super mega brillante ma invece ci sono dei problemi il prezzo crolla ok e questo ancora niente questo potrebbe essere ancora niente ok perché dico questo perché appunto andiamo a vedere bene i dati quindi oltre al fatto che appunto in questi primi poi il Q1, Q2 e Q3 quindi i primi nove mesi dell'anno sono andati piuttosto bene diciamo che comunque abbiamo avuto i problemi che invece abbiamo avuto da diciamo agosto settembre in poi ok quindi sono questi ultimi due mesi che adesso abbiamo avuto dei problemi con tutte le società energivole cioè che consumano tanto per poter produrre e le case automobilistiche fanno parte di questa cosa hanno dei grossi problemi di margini cioè stanno buttando tutti i loro margini al vento e in più le persone che stanno spendendo molto più soldi perché l'inflazione alle stelle ha meno soldi per poter comprare e quindi taglia e taglia anche l'acquisto delle auto ma soprattutto le auto elettriche avevano il vantaggio di costare molto meno che il petrolio o il gas adesso avete visto che addirittura se fate il pieno in autostrada costa come se non di più addirittura delle macchine a benzina o a gas ok se fate le ricariche veloci in autostrada ragazzi costano un botto quindi si è tolto completamente l'incentivo ricordiamo poi anche un'altra cosa che il mercato più grande al mondo di auto elettriche non è l'america è la Cina e il secondo posto è l'Europa non è l'America quindi primo posto c'è la Cina secondo posto c'è l'Europa all'interno dell'Europa ci siamo anche noi siamo fra i più grandi noi siamo i primi però in Europa che hanno avuto questa cosa qua mobilità elettrica sotto shock la crisi frena le immatricolazioni mentre cresce lo sharing cioè nel primo semestre ai primi sei mesi mentre tutto andava ancora bene avevamo ancora l'inflazione le stelle l'immatricolazione di auto elettriche sono scese del 17% questo in Italia l'unico paese europeo ok ma comunque prima ancora di quest'ultimo periodo dove appunto agosto settembre dove appunto è andato le stelle proprio la produzione di luce dove noi poi abbiamo iniziato a pagare di più le bollette dove poi adesso tutti gli esercenti stanno facendo pagare di più le cose quindi vai al bar costa di più vai a mangiare la pizza costa di più al ristorante costa di più vai a comprare il vestito costa di più tutto costa di più non è ancora incluso in questo quindi quando tutto andava ancora bene fino a giugno tutto andava benissimo le vendite di auto elettriche in Italia scendevano dal 17% ok quindi attenzione perché adesso da adesso in poi i prossimi dati saranno schifosi perché appunto abbiamo meno soldi quindi corollerà tutto il mercato popolistico ma anche appunto quello elettrico perché non c'è più nemmeno l'incentivo quello che costa meno fa la ricarica ok detto ciò quindi Tesla fa auto elettriche sì e quindi Tesla bisogna fare molta attenzione ok diventa molto pericolosa questa cosa qua fra l'altro appunto lui è l'uomo più ricco del mondo ma il suo patrimonio quest'anno ha perso 100 miliardi 100 miliardi in un anno cioè 100 miliardi di dollari in un anno 28 miliardi sono nell'ultimo mese ok sta crollando sta crollando Tesla quindi ovviamente crolla il suo patrimonio Tesla è sceso del 50% e quindi comunque il suo patrimonio sta scendendo quindi perché un personaggio del genere appunto che adesso non sta vivendo cioè sta vivendo in cioè lui sa che il futuro è prossimo soprattutto se la guerra non andrà a risolversi risolversi il Q4 quindi l'ultimo trimestre di quest'anno e il primo trimestre del 2023 faranno schifo ragazzi sarà una cosa terribile sarà una cosa terribile e perché lui che è l'uomo più ricco del mondo va a dire questa cosa ok è una cosa grave perché appunto le persone normali che non sanno nulla di economia non stanno capendo che andremo incontro a un Q4 disastroso un Q1 2023 disastroso vedono che l'uomo più ricco del mondo l'influencer più grande al mondo gli dice che Tesla farà praticamente un X10 perché da 500 miliardi andrà a 4000 miliardi ragazzi le persone normali dicono ok compro questo è un buy the dip fantastico compro e oldo invece ragazzi non è così quindi è pericolosissimo questa cosa io non so perché gli permetto di poter fare questo fra l'altro ricordiamoci che Tesla indovinate cosa vuol fare Tesla che comunque lui ha già cioè lui è pensate che roba lui ha 100 milioni di follower su Twitter e ha deciso di comprare Twitter anche questo è un disastro pazzesco per Tesla adesso vi spiego perché lui che è già un influencer decide di comprare Twitter in un momento storico terribile dove tutti gli altri social stanno crollando a parte TikTok ma tutti gli altri stanno crollando e lui decide di comprare Twitter cioè neanche dice non so qualcosa di nuovo faccio un social nuovo così la mia influenza fa sì che possa crescere faccio crescere un'azienda nuova quello sarebbe stato fantastico e ovviamente l'avrebbe spagato praticamente a zero e invece lui deve comprarsi Twitter per 44 miliardi 44 miliardi che sono tantissimi soldi ma soprattutto sta comprando Twitter che sta andando male cioè i dati di Twitter dove è che sono? eccolo qua comunica risultati finanziari nel secondo trimestre i dati complessivi non sono positivi i ricavi calano dell'1% ok? noi siamo abituati ai social che crescono e crescono e crescono e invece sta andando male ok? i ricavi calano cioè queste sono cose dove appunto queste sono social che devono continuare a crescere altrimenti poi vengono bastanati adesso vediamo Snap e Meta quanto vengono bastanati e invece lui decide di comprare Twitter che sta facendo schifo è praticamente il social peggiore a livello di crescita rispetto agli altri e hai a pagarlo un botto infatti andiamo a vedere il grafico guardate il grafico di Twitter il grafico di Twitter è addirittura positivo perché positivo? perché lui ha deciso di comprarlo e quindi il prezzo rimane su al prezzo dell'OPA ok? il prezzo in cui lui ha deciso di comprarlo quindi non sta crollando ma gli altri cosa stanno facendo? che hanno comunque dati positivi snapshot che è sceso del 28% ieri 28% ma dai massimi ragazzi guardate dai massimi è il 90% è sceso è sceso e comunque quali sono i dati di snapshot? andiamo a vedere i dati di snap ecco scende del 30% semplicemente perché il mercato della pubblicità sta corollando ok? perché appunto la gente le società adesso non hanno soldi perché si stanno indebitando perché devono pagare di più quello che sono l'energia e quindi se hanno meno soldi ovviamente investono meno e quindi non fanno pubblicità quindi tutti quelli che guadagnano in pubblicità stanno crollando ok? ma snap praticamente continua a crescere come social e che per la prima volta non cresce a doppia cifra ma cresce a una cifra sola quindi è sceso sotto la crescita del più 10% quindi comunque sta ancora crescendo tanto twitter abbiamo visto invece non è è addirittura in negativo e nonostante questo snap guardate in borsa meno 90% ok? che comunque sta crescendo più di twitter meno 91% ragazzi meno 91% meta invece che sta facendo? meta uguale ragazzi meno 67% e come mai twitter no? semplicemente perché lui il nuovo più ricco del mondo è deciso di comprarsela e quindi sta tenendo sul prezzo perché se no anche questo ragazzi una volta che lui purtroppo adesso sarà costretto di comprarlo almeno che non trova qualche altro cavillo ma sembra che sia costretto a doverlo fare ormai lo stanno obbligando dopo questo ragazzi crollerà twitter fa schifo cioè è inutile che poi lui adesso licenzerà tutto eccetera ok perfetto ottimo per la società è ottimo quando licenzia perché comunque ha meno spese l'importante è che poi ci sia un progetto nuovo porterà qualche influencer nuovo no lui c'è già lui che è già il più grande per questo è che ha molto più senso spendere un miliardo invece di 40 si comprava e faceva un progetto da zero oppure si comprava qualcosa di piccolissimo o comunque uno come lui cosa vuoi che sia fa una squadra spende un miliardo e si fa un social nuovo dove arriva lui come influencer e questo qua esploderà ok ovviamente distruggendo i rivali questo è sempre stato e avrebbe speso un miliardo invece di 44 ok è follia quindi praticamente lui ha tenuto su sta tenendo sul prezzo di twitter che una volta che è entrato twitter è quel che è potrà fare qualche modifica chissà magari per un paio di mesi magari avrà qualche personaggio in più ma sono già lì chi vuol stare su twitter è già su twitter ok butterà via qualche bot se butterà via i bot i dati cosa faranno crolleranno risulterà che avrà un grosso crollo di persone quindi comunque il destino di twitter è che comunque crollerà cosa vuoi che faccia quindi lui sta comprando qualcosa che adesso vale 44 miliardi che magari il prossimo anno varrà 20 10 15 ok farà la fine di snapshot o di meta ragazzi che comunque stanno crescendo più di twitter twitter sta facendo schifo è uno schifo cioè non è che c'è tanto è bello come notiziario ma non è un qualcosa che possa crescere esponenzialmente ok quindi è follia pure questo è incredibile quindi torniamo a questa cosa qua quindi lui perché sta dicendo questo purtroppo sta dicendo questo perché lui sa che andrà incontro ai prossimi sei mesi che saranno terribili ok quindi come abbiamo visto anche Katie Woods che quando vedeva che le cose andavano male lei diceva bitcoin andrà a 400.000 500.000 ok ogni volta che prima diceva che andava a 100.000 poi quando ha iniziato a crollare ha detto 400.000 ok quando le cose vanno male questi sparano a caso ok purtroppo possono non so per quale motivo possono e lui adesso sta sparando a caso lo sta dicendo adesso che è disperato ok quindi non cascateci aprite gli occhi ascoltate i fatti abbiamo fatto il webinar holdar consapevolemente proprio per farvi capire cosa è importante come leggere le notizie e come capire le notizie ok quindi ragazzi capite non ascoltate questi personaggi che purtroppo anche un grande come Elon Musk ha fatto delle cose incredibili sta cascando in questa cosa che fra l'altro comunque faceva già perché se mi ricordate tutti i pump che faceva fare su Bitcoin i pump che faceva fare su Doge cioè erano cose appunto illegali ha avuto dei problemi il mondo cripto ok ma nel mondo azionario insomma si rischia la galera per queste cose qua e adesso sta facendo questa cosa io mi metto nei panni di chi appunto non sa nulla di finanza e holda semplicemente col discorso se l'uomo più ricco al mondo dice una cosa lui non permetterà mai che il prezzo scenda avete visto cosa ha fatto Doge avete visto cosa sta facendo Tesla vedrete cosa accadrà a Twitter che veramente è la cosa il deal più passerà per il deal più assurdo della storia è incredibile ci rivedremo fra due anni e vedremo il prezzo di Twitter e di quanti soldi ha perso ovviamente lui deve poi vendere altri altri titoli di Tesla per poterlo comprare insomma è un disastro ragazzi è un disastro quindi assolutamente no good tra l'altro appunto anche appunto meta che sta tagliando il personale calo di profitti insomma i social stanno avendo proprio il periodo peggiore della storia e lui compra Twitter e dice che Tesla andrà a 10x ok nonostante purtroppo la concorrenza sta andando Tesla vi ricordate era anche la macchina più venduta al mondo ok è il marchio di macchine elettriche più venduta al mondo non lo è più è Beyond BYD è un marchio cinese che sta esplodendo ragazzi e non è ancora entrato in Europa adesso entrerà in Europa ragazzi distruggerà il mercato sta facendo delle robe bellissime delle macchine delle bellissime auto cioè dentro se guardate gli interni di Beyond fanno veramente power sono spettacolari cioè ragazzi distruggerà il mercato cioè Tesla qua prenderà schiaffi a non finire soprattutto Tesla non sta più facendo macchine nuove ragazzi Cybertruck il camion tutte queste robe qua ma sono anni che devono uscire non escono non escono non sono sempre le stesse macchine neanche puoi pensare facendo il restyling infinito la stessa macchina poi tecnologicamente ancora evolui il motore è migliore a livello di prestazioni di consumo è migliore che c'è sul mercato non l'hanno ancora superato ma comunque tutto il resto ragazzi cioè uno almeno negli altri entri nella concessionaria vai comprando una BMW elettrica entri in concessionaria hai un problema torno a quella concessionaria quando si rompe se tu fai un incidente o qualcuno ti viene addosso con la macchina è un problema per cambiare i pezzi di Tesla cioè non so se avete visto il listino cioè se voi andate contro un muretto e non avete la casco e dovete cambiare pezzi dell'auto i prezzi sono fuori di misura fuori di testa proprio scrivetelo nei commenti qualcuno c'era un Tesla ha avuto un tamponamento per colpa assoluta cambiare un pezzo scrivetelo per piacere scrivetelo nei commenti perché è qualcosa di allucinante ok allucinante quindi vi voglio semplicemente aprirgli occhi su questo e purtroppo con questa dichiarazione il nostro carissimo Elon Musk diventa un fufaguro cioè fufaguro insomma uno che comunque ha creato miliardi ma comunque sta intrappolando gli stolti cioè chi non capisce di finanza li intrappola e purtroppo c'è gente che appunto dice wow cavolo questa è un'occasione ha fatto meno 50% lui mi dice che andrà a fare DCX ci metto i miei risparmi e sono tanti sono canali youtube con centinaia di migliaia di follower che dicono solo questo lui dice di comprare lui ha il futuro comprate all in questo insegnano youtube non fa nulla nessuno fa nulla contro Musk che può dire tranquillamente queste cose e quindi purtroppo se aprite gli occhi perché se non capite il numero di finanza prenderete legnate pazzesche ok i prossimi 6 mesi soprattutto se la guerra continua ad andare avanti avremo dei dati terribili ok quindi i dati che stanno fra l'altro i dati che stanno uscendo fuori adesso alcuni dicono qual è l'outlook quindi sono onesti e dicono i prossimi 3-6 mesi faranno schifo quindi ci mettono male avanti e crollano oggi altri tipo tipo Musk non lo dicono ma dicono l'esatto contrario ok quindi già non dirlo ok può anche andare bene non dire il tuo outlook ok non dire che l'outlook sarà negativo va bene può essere una tecnica almeno non crolli oggi crolli fra 3 mesi 6 mesi ok va bene c'è chi lo sta facendo chi onestamente sta dicendo ragazzi però i prossimi 3-6 mesi faranno schifo guardate FedEx ha fatto così crolli oggi però almeno sei onesto con i tuoi azionisti oppure chi fa l'esatto contrario Elon Musk ha scelto di fare prendere la via del fufaguro cioè di non spaventare nessuno anzi fare entrare tutti gli stolti e poi tanto per poi fregarli perché lui sa già che fra 3-6 mesi i dati faranno schifo detto questo mettete un bel like al video iscrivetevi a youtube due canali telegram discord twitch lunedì a casa bull vi spiegherò anche il trading expo di verona di dicembre ne parleremo ciao